Prima di cominciare ti invito a scaricare OneFootball, quella che è il mio modo di vedere, è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news, sempre. John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Allora, allora, oggi pomeriggio si è giocata Genoa Cagliari, si è giocata Genoa Cagliari e il Genoa sta cercando in tutti i modi possibili e immaginabili di andare giù. Ragazzi, il Popergiana c'è il palio da andare giù, secondo me, e spero che non succeda. Io vi dirò la verità, mi tirerò contro un po' dei tifosi di questa squadra, però l'Udinese, tra quelle che stanno lì, è quella che mi sta un po' meno simpatica. Ma diciamo che, allora, in realtà, non ho nulla in particolare contro l'Udinese. Però, ho detto, se devo fare una scrematura, allora, è un po' l'Udinese o quelle che mi sono meno simpatiche. Cioè, la Fiorentina se lo merita, l'ho detto, però, insomma, spero che non vada giù. Il Palma mi sta simpatica, il Genoa mi sta simpatica, anche la Samp, attenzione, vieni magari, oddio, ti stai facendo giù, e quindi non la Samp, no, non è strano. Cioè, la Samp mi sta sul cazzo per avermi lavato uno scudetto, però, oggettivamente, è una bella squadra, mi è sempre piaciuta la maglia, è bellissima. Cioè, del Ceraferrero mi sta simpatica, anche se poi, vabbè, di questo ne parliamo un'altra volta. Quindi, insomma, parlandoci chiaro, tra quelle là, la mia decisione è Empoli-Udinese. E per me, per me, l'Empoli merita di salvarsi più dell'Udinese. Ha fatto di più, si è impegnata di più, ha avuto maggiori occasioni nel dimostrare che fosse più forte. C'ha un'identità, c'ha un'identità, a differenza dell'Udinese che non ha un'identità, che cambia 250 giocatori a partita che ogni volta non si capisce mai chi gioca e chi non gioca. L'Empoli ha un'identità, l'Udinese non ha un'identità. Ok, sta rischiando di andare giù il Genoa, ragazzi. Il Genoa che, alla fine, si salva, salva il culo pareggiando sul calcio di ricordi a un minuto alla fine, con il solito Mimmo Criscito. Tra l'altro, ragazzi, Criscito si è anche incazzato settimana scorsa o due settimane fa, quando il Genoa ha pareggiato su... Cioè, ha sbagliato il calcio di ricordi contro la Lazio, mi sembra. Contro la Lazio, contro di noi. Non mi ricordo contro chi cazzo, forse contro... Ah, no, era contro di noi addirittura, non era contro la Lazio. Allora, non è perché con la Lazio, Criscito ha fatto col da fuori e hanno vinto. Contro di noi, calcio di coro all'ultimo, il rigorista designato è Sanabria. Basta la prima sul pallone, c'è anche Criscito in campo, sbaglia. E di così al Genoa hanno dato a Sanabria del squadra del Criscito e del Codardo, perché non era andato a tirarlo, perché non aveva le palle di tirarlo. In realtà, ragazzi, non è così. In realtà il rigorista designato era Sanabria. Oggi è riuscito a prendere il polo di prepotenza, lo mette lì dove non può nulla il portiere del Cagliari, e quindi, insomma, alla fine la pareggiano. Però è un Cagliari che va a fare la voce grossa a Genova, è un Cagliari che va avanti con il gol di Pavoletti. Il solido Pavoletti che poi si infortuna anche, tra l'altro, porca va che ce l'ha al fantacalcio. Poi Pavoletti è un giocatore che per me, per la nazionale, sarà perfettamente integrato. Quindi, insomma, ci serve che ci stia. Al di là di questo, ragazzi, il Genoa che pareggia all'ultimo è un Genoa che prende un punto abbastanza inutile, perché va a più due sull'Empoli. Se l'Empoli dovesse vincere, ok che c'è l'incontro difficile con il Toro, se non sbaglio, e poi c'è l'Inter. Però se dovesse vincere, andrebbe salvo. E quindi all'ultima giornata, sì, ok, da una parte, tu dici perché mettiamo a vincere con il Torino e lì supera, ok? Tu dici, vabbè, però all'ultima c'è l'Inter a Milano, sì, però già è sopra. Quindi, innanzitutto, il Genoa deve vincere. Se il Genoa non vince, va giù. Se vince, deve guardare anche la partita dell'Empoli. Quindi, in questo momento, il Genoa rischia veramente tanto, rischia veramente tanto. E poi c'è il Parma, che domani c'è la Fiorentina, che per me faranno un pareggetto pacchettato, regà, perché pareggetto significa salve praticamente tutte e due. Se dovesse perdere con la Fiorentina, magari c'è questo gesto d'orgoglio, non ce lo credo mai. L'ultima va a Roma, con la Roma che deve giocarsi un posto in Europa League o in Champions League, penso più in Europa League, però, insomma, è la Roma e lì. Quindi, insomma, il campionato è molto, molto aperto, molto, molto bello. Alla fine del Genoa prende questo punto. Fatemi sapere un commento qua sotto, iscrivetevi, mi raccomando, al canale, se ancora non l'avete fatto. Mi piace, mi piacciono, non è che si va a fatto cadere, ma speratemi il perché. Grazie a visto questo video. Bocce la dalle, come sempre. Ci vediamo in un prossimo video.